Ma io capisco l'intervento dell'onorevole Di Battista perché l'onorevole Di Battista sta su una posizione globalmente eversivo-rivoluzionaria e quindi qualunque cosa passi lui la prende al volo. Trovo qualche contraddizione fra questo intervento così rivoluzionario e quello dell'onorevole Di Maio ieri a Cernobbio dove mi sembrava una sorta di Giulio Andreotti rivisitato quando era giovane. Ma comunque questo è un altro paio. Capisco molto di meno invece, devo dire, l'intervento dell'onorevole Palazzotto. E parto dal punto di Cambridge perché qui ci stanno due, oltre il problema egiziano, che è gigantesco, ci stanno due buchi neri singolari in questa vicenda che hanno un valore, secondo me, esattamente rovesciato rispetto a quello di cui ha parlato l'onorevole Palazzotto.